per i 40 anni di carriera è uscito 40 il sogno continua di cristina d'avena nuovi duetti con artisti big della musica italiana impreziosiscono la pubblicazione ricca di numerosi inediti rarità e chicche che noi fan reclamiamo da tempo oltre alle sigle più amate conosciute recuperate dai master originali e alle canzoni prese dalle serie televisive che l'hanno vista protagonista negli anni 80 e 90 dal 1982 ad oggi cristina d'avena è l'unico personaggio dello spettacolo la cui voce presente sulla tv italiana ininterrottamente nei primi anni 80 almeno una volta al giorno sette giorni su sette 7365 giorni l'anno che dire un mito